Città senza acqua e scuole chiuse a Benevento, martedì 11 maggio, lo ha annunciato il sindaco Clemente Mastella questa mattina in occasione dell'inaugurazione dell'orto didattico presso la scuola Pietà. Una scelta necessaria per consentire i lavori di adeguamento che verranno effettuati sulla condotta Torano-Biferno e consentiranno di aumentare la portata delle acque provenienti dal Molise. Fisso l'ordinanza per la quale chiudiamo per ragione molto semplice cioè che dovendo fare i lavori che sono lavori diciamo importanti e chiudiamo le scuole, chiediamo scusa alla popolazione ma sarà un vantaggio per loro perché insomma la portata delle acque che arriverà a Benevento sarà notevole quella in più. Lo stop all'erogazione idrica riguarda sia la città di Benevento che altri centri del Sannio, interventi che saranno dettagliati domani in un incontro fissato alle 10.30 a Palazzo Mosti con il sindaco e il presidente della Gesesa Domenico Russo. Martedì rimarranno invece aperti regolarmente gli uffici pubblici e il sindaco annuncia che con la Gesesa si è pronti a far fronte ad eventuali disagi. Sarà una cosa che impiegherà sia le risorse della Gesesa, saranno altri comuni che dovranno chiudere per portare l'acqua a Benevento, quelli che sono sulla strada della condotta del Torano Piferno e chiederemo scusa ma al tempo stesso abbiamo stabilito le modalità per le quali siamo attrezzati alla bisogna eventualmente ci fosse esigenza di acqua quindi con autobotti e quanto altro.